Sto qui insieme all'amico Alberto Ceikos che decano in Italia, come tutti sanno è responsabile della divisione professionale lo quale mi sto intrattenendo per chiedere informazioni e delle utilizzazioni sull'ultima nada, la macchina professionale, l'ammiraglia che il prossimo anno spero che vedremo quanto prima. Quindi Alberto? La vedremo a Pasqua sicuramente ed è una macchina, la EOS 1DX è veramente fantastica perché ha un processore dedicato al video ma rimane comunque una grande macchina geografica per fare soprattutto fotografie fotografie ad alta sensibilità, quindi avremo 8000 e più ISO senza assolutamente grana precisione notevole di nitidezza messa a fuoco e soprattutto se utilizzate anche le nuove ottiche che hanno una risoluzione appunto doppia in confronto a quelle attuali avremo dei dettagli impensabili con una reflex in assoluto nel mondo della fotografia fino a oggi. Uno, due, tre, quattro... Dal Festival del Cinema di Roma 2011, un grazie ad Alberto e a presto. A presto, appogliatori.